e a come ti chiami? come ti chiami? e poi come? e quanti anni c'hai? uno due o tre tre e come ti chiami? cadillac! cadillac! oh! grazie! grazie! e la macchina! grazie! 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 grazie a piarcalo le tue argola in me po porti a piarcalo,I'm going to see if i can get as much as we can. It's next to the big hotel, where we stay is about there, right in the middle there. Bisogna che ti cominci di nuovo perchè ti metti il caldo per sbottare il bottone. Comincia che parola, si comincia. Allora riprendi tu, riprendi di nuovo. Un pallido segnale ci indica la strada, l'unica strada possibile verso la meta, il rifugio agognato. L'aria fine dei 4000 entra nei polmoni, spezza il fiato e taglia le gambe. Ma dobbiamo salire, continuiamo a salire. In poche parole, questa è una via sola, andando su non si ritorna più. Un'altra via, qui è coi l'ritorno delle donne, le faccio l'arretto. Cosa quando si trattano di una nuova, che s'usiede, in termini si ritorna con una nuova. It's getting cold in here. Continuiamo a salire, ah c'è sempre l'audio, continuiamo a salire, Beppi, salutila Beppi, saluta Beppi, inermi davanti allo spettacolo glaciale, là verso le nevi, sono la guida altigiana, e quindi si continua a salire, verso le nevi eterne, verso l'alito del ghiacciaio, da dove volano solo le aquile, gli angeli forse, voce e guida di Luca. Sì, bello, senti? Sì, bello senti? Sì, bello senti. Sì, bello senti. Sì, bello senti? Sì, la capa, è la guida che ci speriamo, ci si può fare. Ci si può andare all'alonga, come vedo, vedo? C'è un'alto guida. Ci si può andare all'alonga al piano. All'alonga all'alonga al la età al l'alto, ora ci si possono andare all'alonga. Ci si può andare all'alonga, spero. e questo è quello che vedremo dal top questo è il più grande glacello un quadro di mili e il più profondo è 300 metri una volta nel 19... quanto è? no, nel 22 il glaciero era tutto da qua, da qua, da qua, da qua da qua, da qua, da qua, da qua, da qua, da qua, da qua e finiva la basso, tra le blaghe e le beppe è il rifugio è il rifugio